Mentre il governo abbassa ancora la soglia per l'uso del contante e addirittura pensa di tassare i prelievi al Bancomat perché vuole favorire la moneta elettronica, la società che si occupa dei post Nexi decide di punto in bianco unilateralmente di aumentare del 30% il costo delle commissioni per i pagamenti elettronici ai commercianti. E nessuno dice nulla. A nessuno interessa se di fronte a un mondo del commercio che è già in ginocchio aumenta del 30% il costo delle commissioni per pagare con la moneta elettronica. E' certo perché per avere qualcuno che dica qualcosa probabilmente servirebbe un governo che avesse vagamente a cuore l'economia reale, il destino delle imprese di questa nazione che volesse magari abbassare le tasse, difendere le famiglie, invece no. Noi abbiamo un governo che si accontenta di favorire le banche, le grandi concentrazioni economiche, la speculazione finanziaria ed è una vergogna ed è una ragione in più per liberarsi di questo governo il prima possibile.